Favorito Mandela, autostart in dirittura, c'è il galoppo di Mitico Kaff prima dello stacco, il galoppo di Lord Victory prima dello stacco. Ostiolo F e Magat in linea, poi lungo la corda Natural Crystal. Il galoppo di Mitico Kaff, che viene squalificato, Magat ha scavalcato Ostiolo F, terzo all'esterno il favorito Mandela, quarta in corda Natural Crystal, poi l'orchestra car. Ostiolo F è spostalato di Magat, Ostiolo F sta passando su Magat, terzo in fuori c'è Mandela, metà del rettilineo di fronte con Ostiolo F al comando. I 460 metri completati in 34 a 7, 31 e 1. Gli ultimi 4, Ostiolo F, tanto la squalifica per Obsession di BM, all'avanguardia Ostiolo F, secondo in fuori Mandela, terzo di dentro Magat, così lungo l'arco della piegata, con Ostiolo F a battista davanti a Magat e Mandela che resta all'esterno. Si esce dalla curva, Ostiolo F avanti a Mandela, poi Magat, quindi lungo la corda Natural Crystal, 29 e 8 alla seconda frazione, 1,04 e 5 per gli 860, Mandela che passa avanti a Ostiolo F, Mandela su Ostiolo F, poi Magat, quindi in fuori Orchestra Car, poi Natural Crystal, in fuori Ocean Drive, avanti a Monami e Manzoni Matto. Penultima piegata, Mandela precede a Ostiolo F, Mandela su Ostiolo F, poi Magat e Orchestra Car a largo, 800 metri al traguardo, frazione completata in 31,6, tempo totale per i primi 1260 a 1,36 e 1. All'avanguardia Mandela, Ostiolo F in seconda posizione, accenduto Magat, terza a largo Orchestra Car, si arriva così ai 600 finali, con Mandela precede a Ostiolo F, Orchestra Car, Ocean Drive, poi Monami. Vantaggio Mandela già sollecitato, dal gruppo viene intanto in avanti Monami. Frazione in 39, Monami che si profila in seconda posizione, all'esterno del leader Mandela, completamento della piegata, ingresso in dirittura, Monami precede Mandela, poi Ostiolo F, Monami, Mandela, Ostiolo F che non progredisce, a centro pista Ocean Drive, per la squalifica per Orchestra Car, Monami su Mandela, poi Ostiolo F e Natural Crystal all'interno, Monami che va a concludere su Mandela, Ostiolo F, Manzoni Matto e Ocean Drive. 31,9, quarto finale, 2,38,9, il tempo totale, la media al chilometro, di 1,17 e 1. Vince Monami, salva la piazza il favorito Mandela, salva la piazza il potente quanto a volte bizzoso, Ostiolo M, oggi seguito dall'amico Babusotto, ciao, zanato, auguri.